Privacy Shield, lo scudo della privacy, se ne sta parlando nelle ultime ore perché sembra esserci in una nuova versione, ma prima di capire la nuova versione cosa comporta, andiamo a vedere un secondo che cos'è il privacy shield, da dove arriva, cosa dice questa nuova proposta e cosa potrebbe comportare, e lo facciamo dopo la sigla. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet, però questa cosa non riesco a farla da solo, o meglio, non verrebbe così bene da solo se non con qualcuno che le sa veramente le cose, e quindi ho chiamato, in realtà è lì, però così almeno è inquadrato meglio, Giuseppe Baciago. Ciao a tutti. Giuseppe Baciago, avvocato delle nuove tecnologie, partner in, tra l'altro fondatore di 42 Law Firm, lo stesso studio in cui ci sono anch'io come partner, quindi vedeteci sotto una divida a qualche parte. Giuseppe, privacy shield, cos'è il privacy shield? Detta in maniera molto semplice, è un accordo tra Europa e Stati Uniti affinché i dati personali che noi cittadini europei facciamo trattare agli americani e soggetti americani, e non sono pochi, vengano trattati con certi parametri di adeguatezza dal punto di vista della privacy. Parametri di adeguatezza che in realtà abbiamo scoperto con una serie di cause che non ci sono per n ragioni, la prima tra tutte è ad esempio che il governo americano ha più potere su quei dati di quante siano le garanzie che abbiamo in Europa, riusciamo a fare un po' la storia di che cosa, di come è nato, di quali erano i problemi del privacy shield? Sono formalmente vietate e dall'altro lato però vengono fatte attività estremamente invasive nei confronti dei cittadini. Cosa era successo nel 1917? Che per la prima volta, direi nel mondo, ci sono state le intercettazioni telefoniche a New York in un caso che riguardava proprio il clero. Scandalo pazzesco e da lì nasce proprio la forte impresa data dal quarto emendamento che dice voi non potete fare attività di intercettazione, sapete benissimo che in Italia c'è intercettazioni telematiche, telefoniche, ce ne sono tantissime. Mi ha parlato di Troia, mi ha parlato di Pila, quindi sì. Perfetto, non è un tema. Invece negli Stati Uniti, legalmente parlando e formalmente parlando, le intercettazioni sono vietatissime. Poi sappiamo bene che NSA e CIA, o CIA, chiamiamolo come vogliamo, hanno fatto tanto negli ultimi anni. Questo ha, dicendo in qualche modo, indispettito, anche legittimamente si può dire, l'Europa. E quindi l'accordo nasce proprio un po' per queste ragioni. Accordo che venne già nel 2015 annullato perché non forniva determinate garanzie, ne è stato fatto un altro, già criticato, che è proprio questo privacy shield che è stato dichiarato invalido nel luglio del 2020. Adesso siamo alla terzo capitolo e questa è la notizia di oggi, insomma. Allora, di base, se ho capito bene, il problema reale è che mentre i cittadini americani non vengono intercettati, tutte queste serie di garanzie non vengono date ai cittadini di qualunque altro paese. Quindi in realtà tutti i provider sono obbligati, tra l'altro anche in maniera silente, a dare dati qualora lo chiedano i servizi segreti, la Central Intelligence americana, e quindi se i miei dati vengono trasferiti negli Stati Uniti, io in realtà ho molte meno garanzie di quello che mi darebbe lo Stato, cioè un qualunque Stato europeo nel framework legale europeo. Corretto? Di base? Di base sì. Due piccole aggiunte. Primo, le intercettazioni riguardano anche i cittadini statunitensi, ma dici bene le intercettazioni ovviamente segrete, chiamiamole, quelle non formali, quelle dei film e delle serie televisive, quelle dell'NSA e quelle della CIA. Però riguardano anche i cittadini non americani, con una certa, mi permetto di dire, presunzione che, ripeto, non ha fatto piacere ai cittadini europei. Secondo punto, attenzione, non pensiamo che però in Europa non succeda nulla. Stavo per dirti, ma perché in Italia invece non vengono intercettati? Allora, partiamo anche dal caso Echelon, che suggerisco a tutti di andare a vedere, perché chi vuole un approfondimento può farlo, però senza tornare indietro a livello europeo, parliamo dell'Italia. L'Italia è una legge, la 124 del 2007, che tutti possono leggere, l'articolo 7, è, per esempio, che dà all'Aise parecchi poteri. Gli stessi che vengono dati agli americani? No, è vero. Però non possiamo dire che ciò non avvenga in Europa, ecco. Allora, in tutto questo a un certo punto arriva, a seconda dello schieramento in cui tu sei, un fottuto eroe o un dannato rompiballe. Lui si chiama Maximilian Schrems, e nel caso vi siete detti perché cosa sono sta sentenza Schrems, che è il nome di una persona. Lui si chiama Maximilian Schrems e mette da attivista in crisi praticamente tutto lo Privacy Shield. Sì, è una bellissima storia quella di Max Schrems. E a me piace raccontare le storie perché raccontando anche da dove nascono questi personaggi si capisce molto di quello che poi succede anche a livello legale. Max Schrems è un giurista austriaco che passa un semestre all'Università di Santa Clara dove incontra nei suoi veri percorsi formativi Ed Palmieri, legale di meta prima ai tempi Facebook. Da quel momento decide, dopo averlo sentito, che la sua vita sarà connotata dal fare causa Facebook. Quindi ecco, io non vorrei mai essere stato Ed Palmieri in quello speech. Bravissimo, convincentissimo, però porca di quella miseria. Sì, no, a parte le battute. Chiaramente ha questa illuminazione sulla via di Damasco e capisce che Facebook, e in realtà più che altro agli Stati Uniti, perché poi non è colpevole soltanto Facebook, ma in generale tutti i player, perché su questo poi si basano le sue varie cause, di non trattare in modo adeguato i dati dei cittadini europei. Parte con un'autocausa, perché la prima richiesta che fece a Facebook fu proprio quella di capire quali dati venivano realmente cancellati da Facebook nel suo profilo, per poi iniziare una serie di procedimenti giudiziari fino ad arrivare alla Schrems 2, che è quella che appunto nel 2020 ha dichiarato invalido l'accordo tra Europa e Stati Uniti. Sì, in realtà in più tornate alla fine si capisce che il mero trasferimento da una parte all'altra a meno di costruire castelli legali tecnologici enormi è di base proibito ed è l'equivalente, dimmi se sbaglio, delle varie sentenze, cioè a valle di questo ci sono le varie sentenze dei vari garanti europei adesso in questo momento e Italia si sta aspettando per vedere ad esempio su Google Analytics perché Schrems subito dopo aver fatto questo su Facebook si muove su Google Analytics, corretto? 95% del mercato delle analytics. Hai perfettamente ragione Matteo, cioè è proprio questo che è successo forte di quella sentenza, ha detto va bene ma non mi basta esprimere un principio di dichiarare invalido questo accordo, voglio andare oltre, voglio che tutti decidano di non utilizzare più strumenti americani e questa è una cosa un po' complicata poi dal punto di vista pratico. Allora ok, quindi adesso come adesso salvo grandi castelli di accordi particolari ma che nessuno sta facendo credo tra le aziende medie e medio grandi in Italia buona parte di qualunque servizio che si muove dati negli Stati Uniti diventa difficile da motivare per GDPR, corretto per adesso? Salvo ovviamente gente che ci si è messa eccetera che è anche il motivo credo per cui tanti provider già da un bel po' di tempo, mi viene in mente Microsoft con Office aveva trasferito totalmente la gestione dei dati europei in data center europei, quasi tutto almeno, tutto quello che io mi ricordo, almeno la posta. Venerdì scorso quindi che cosa è successo? Perché ne stiamo parlando adesso? Allora fino, come dici giustamente tu, fino a venerdì scorso ci siamo arrangiati nel senso che c'erano due strade le standard contractual closes cioè degli accordi dove il player americano dava determinate garanzie per dirle in maniera molto semplice oppure il cosiddetto transfer impact assessment che era un assessment che il titolare del trattamento cioè il soggetto europeo cercava di fare per giustificare l'utilizzo di questi strumenti Aspetta, aspetta, spieghiamole Hai ragione Da una parte abbiamo un contratto particolare che io faccio con il provider americano che mi dà delle garanzie superiori Bravissime, bravissime Dall'altro sono io che valuto e dico è vero, li porto di là però magari, faccio un esempio magari li porto di là cifrati le chiavi le ho di qua quindi in realtà anche se di là mi stanno intercettando anche queste cose non comporta un disvelamento di e quindi io per comodità li metto di là però ci sono abbastanza garanzie sono comunque tutti e due avvocati che risolvono problemi tecnici, corretto? Sì, grazie Matteo hai reso assolutamente intellegibile quello che ho detto e quindi queste sono le due cose che sono successe fino ad oggi Ma erano palliativi? E adesso invece forse anche in una logica un po' più ampia di rapporto Europa-Stati Uniti legato alle vicende note di cui non dobbiamo parlare ma se ne parlava anche prima a onore del vero von der Leyen e Biden hanno fatto un annuncio importante cioè ci provano per la terza volta a fare un accordo per il trasferimento dei dati Tra l'altro un accordo che in teoria leggo consentirà flussi di dati prevedibili e affidabili bilanciando sicurezza diritto alla privacy e protezione dei dati non so se fa anche il caffè Beh, sono principi che è facile come dire scrivere e infatti mi viene da dire non si è fatto attendere Max Schramms che ha fondato poi anche Noib così ricordiamo anche che cosa l'associazione degli attivisti scritto N-O-Y-B grazie che c'è anche un sito web molto denso di informazioni da questo punto di vista e con un comunicato taglientissimo ha veramente criticato questo accordo perché ha detto questa è una petizione di principio non abbiamo il documento scritto non vale nulla si è anche spinto a dire non ci riuscirà mai l'America a cambiare le sue leggi questo è un tema abbastanza delicato Eh, sì perché allora a parte il fatto che ti dice che vabbè contesterà questa cosa appena arriverà eccetera il punto non è male cioè perché funzioni una cosa del genere devono cambiare in maniera abbastanza significativa una serie di normative americane non particolarmente semplici perché tra l'altro dal Patriot Act e quello che arriva dopo cioè sono state varate in condizioni di emergenza c'è un ordine presidenziale non mi ricordo quale tu di sicuro sì però cambiano in emergenza non è semplice variare totalmente è come se dicessero in Italia devi cambiare la norma sulla diffamazione per poter poi parlare con gli Stati Uniti ci sta che sia difficile o no? molto difficile Matteo perché perché in primo luogo siamo di fronte a una situazione emergenziale e quindi cambiare oggi il presidential order appunto che tu citavi che è il 123333 che dà quindi che lo sapevi esatto se faccio il primo della classe no quest'ordine no lo dico solo per chi magari vuole poi andare a googlarlo o altro dà al presidente degli Stati Uniti il potere di andare a vedere i dati di chi vuole questo è quindi obbligare i player Google Facebook scusatemi Meta e gli altri tutti gli altri ad accedere a questi dati capite bene che in questo momento storico può essere strategico e quindi è difficile modificare un atto normativo di questo tipo e invece il Federal Surveillance Act che è l'altro atto oggetto diciamo di critiche da parte dell'Europa è addirittura se non va derato nel 1978 quindi cambiarlo è altrettanto complicato e nel frattempo deve mantenere però quel minimo di garanzie per gli utenti europei quindi non sarà particolarmente semplice quindi però allora in realtà da quanto capisco io per adesso è ancora un nulla di fatto cioè Shrems è andato contro Google Analytics mano a mano si pronuncerà almeno a meno di chissà cosa però in genere i garanti si pronunciano più o meno tutti nello stesso modo quindi già cos'è Francia Olanda forse ha già detto che Google Analytics così com'è illegale poi si sposteranno probabilmente sui servizi di cloud o i data storage eccetera quindi nel frattempo che si fa? beh nel frattempo attendiamo che arrivi l'accordo perché è stato annunciato quindi un pezzo di carta ci arriverà si parla prima dell'estate quindi non è immediato e poi potremo parlare perché forse la verità sta sempre nel mezzo da un certo punto di vista magari ci sono delle petizioni di principio adesso che è un momento strategico di unione Europa-Stati Uniti però è anche vero forse che non si può dire a priori che l'America non cambierà mai e non troverà mai l'accordo anche quella mi sembra una petizione di principio dal punto di vista di Noib e di Max Schramms leggiamo il documento e vediamo se questo documento è accettabile soprattutto passare al vaglio dei garanti europei questa EPBD cioè l'European Data Protection Board che appunto deve dare il suo parere il garante dei garanti il garante dei garanti questo sarà molto importante per chiudere questa vicenda e nel frattempo nel frattempo il mondo sta andando avanti ci sono realtà sempre diverse si parla di storage decentralizzato ci sono realtà che forse creano livelli di complessità magari anche superiori a quello di cui stiamo discutendo adesso EU-US e quindi non è facile ecco allora quindi in realtà però comunque a quanto pare chi non si è dotato di mezzi per capire allora chi usa servizi che trasferiscono dati negli Stati Uniti e non si è dotato di un'impalcatura tecnica o legale quindi non ha le standard close o non ha il transfer impact assessment comunque dovrebbe iniziare a pensarci in maniera seria indipendentemente da che cosa dice poi il il nuovo privacy shield o se ne può fregare pensando che tanto arriverà una nuova panacea beh io tendenzialmente non me ne fregherai perché comunque era una cosa che doveva essere oggetto di attenzione dal 2020 perché arriverà perché ci sono delle indagini in corso arriveranno dei provvedimenti da parte dell'autorità nazionale e che non saranno secondo me leggeri sul tema del trasferimento dei dati all'estero quindi è chiaro che da un punto di vista prudenziale bisogna attivarsi e bisognava attivarsi anche prima e non è che è cambiato nulla è ovvio che magari dopo l'estate settembre possono cambiare gli scenari però non dobbiamo ecco parere mio sempre sperare diciamo in aspetti positivi quando l'attuale come hai detto tu Matteo è bisogna mettersi a rispettare la legge e adesso ci sono tante realtà che non la stanno rispettando io aggiungerei solo una cosa alla fine che c'entra e non c'entra però oltretutto in questa configurazione storica abbiamo visto soprattutto negli ultimi mesi sempre di più il concetto di sovranità tecnologica cioè il concetto di sovranità intesa come i miei dati nei miei posti l'abbiamo visto con la Russia l'abbiamo visto con tutta una serie di cose che sono andate per aria perché i dati erano non si sa esattamente dove indipendentemente da tutti non voglio citare Kaspersky o chiunque altro però indipendentemente da tutto forse è il momento di fermarsi di mettersi avvocati e tecnici assieme fare una bella mappa di dove sono i miei dati cosa ne faccio e se magari con un minimo sforzo o uno sforzo comunque accettabile riesco a spostarli qualunque cosa succeda non dico in Italia ma almeno in Europa secondo me è uno sforzo che insieme a redigere poi transfer part assessment o andare a cercare secondo me è uno sforzo che vale la pena di fare sei d'accordo? assolutamente sì Matteo con un unico caveat che è quello della sostenibilità energetica che dobbiamo ricordarci essere un tema cruciale per i prossimi anni perché conservare i dati costa quindi potremmo chiudere con questo messaggio primo sovranità importante dobbiamo portare i dati in Europa dobbiamo stare attenti da questo punto di vista perché i dati sono il nuovo petrolio e più tu lo sposti più poi ne avrai bisogno in futuro secondo principio che in effetti viene un po' odiato da alcuni soggetti ma che è importantissimo che è quello della minimizzazione del dato meno dati abbiamo meno rischi abbiamo in caso troppo di data breach ovviamente incrociamo le dita ma succedono e meno energia consumiamo che sarebbe anche un tema importante da affrontare perfetto io direi che abbiamo detto più o meno tutto ovviamente se ci siamo dimenticati qualcosa se qualcosa non era chiaro se avete bisogno di altre delucidazioni io ho fatto il video perché sono arrivati un botto di commenti che lo chiedevano mettete sotto una domanda eccetera e vediamo di rispondere grazie mille a Giuseppe mi giro di lì perché Giuseppe continua a sostenere che l'inquadratura non lo fa vedere ma quella che vedete è la mano di Giuseppe esatto grazie mille Giuseppe Giuseppe Vaciago avvocato esperto in nuove tecnologie mio socio in una serie di società in realtà sia nella Legal Tech LT42 sia nello studio 42 Law Firm per qualunque cosa sapete dove trovarci anche per picchiarci eventualmente o darci un caffè magari era meglio un caffè che non apprezziamo ciao grazie mille per averci ascoltato ed estate parati grazie mille grazie mille grazie mille